Quando saremo al governo della città metteremo a disposizione un bonus bollette per un totale circa di 200.000 euro con il quale potremo andare a coprire l'aggravio che hanno subito le famiglie per colpa di questo caro bollette e soprattutto le famiglie con due soli componenti. L'accesso al bonus sarà chiaramente su richiesta di chi ne avrà bisogno. Abbiamo fatto una valutazione che potranno accedere tutti coloro che hanno avuto un aumento superiore al 15% tra il 2017 e il 2018. L'attribuzione poi eventualmente del bonus sarà in base ovviamente all'ISE lineare e quindi si stima all'incirca un contributo per famiglia di circa 100 euro. Ecco, come siete arrivate a questa proposta? Oltre alla beffa c'è stata la successiva beffa di un annuncio da parte dell'amministrazione comunale, da parte di ASET, di 50.000 euro di bonus solo per le famiglie monoparentali, cioè per i single, per le famiglie con una sola persona. Rimangono fuori tutte le famiglie che hanno due persone, quindi non ci pare giusto che siano proprio le famiglie con due componenti ad assumere sulle loro spalle tutta la criticità di questa situazione.